50-60 mila euro che sono speso Il tempisco non poteva essere E' gente che ha appena concluso l'accordo per acquisizioni di due locali fascistiche E' un'ottica a Sant'Avila E' solo un altro modo di abbrare qui la famiglia La Rosalba, la Rosalba Si può offrire un paquetto, per esempio Un'identità lo schifo, un paquetto di incertidità Si, funziona Il fatto è che da Rosalba ripete che il paese sta per esplodere E comunque, l'importante è che il tuo padre ripresa un po' di assieme In forma dei soci di assieme Non lo so, non lo so, non lo so Tranquillo, il tuo padre ripresa Si, ma lo so Vedi che c'è Vedi che c'è I doni Non mi rendisco l'aiuto a nessuno A fare gli odi di sua madre E non puoi le bocciare E' un buon accordo, signor Presidente Vedi che dovessi spostare a tutti Mi servono soldi, non soci Soci non operanti Dirigereste ancora tutti E come si ripresa i soldi Questi soci non operanti Perché non vogliono, vero? Non lo fide, certamente Non è qui, interessi di mercato Ma non prima che devi schiacciare Ma intanto, per te, ci prendo un pezzo di casa Grazie Grazie Grazie